Sorelle diverse, quale di queste sagome appartiene a un cantone che confina con la Francia? La A, la B, la C o la D? Chi è? Vai, è più divertente. Non ho dovuto, non ho imbele. Perché? Vuol dire che ce l'ha? Avete ancora più di 10 secondi. È più vecchio. B? B. B. Tu hai detto il B? Giura. Il B è il giura? Hai detto così giusto? E avevi il dubbio con la D La D è sangra La C è il canto nuri Poi c'erano la A E la B No, la A è La C La B Non ho sbagliato qualcosa io Non mi sono perso Però sì, hai detto bene È il giura quello che dobbiamo trovare noi È il giura quello che dobbiamo trovare noi Ma purtroppo il giura non è la B La B è il canto nuri Il canto giura era la A Purtroppo dobbiamo dimezzare Se ne va così la possibilità di